Tutti, dalle nostre parti, hanno sentito parlare della pietra di Bismantova, con la sua impressionante forma incudine, spicca da secoli nel cuore dell'Appennino Reggiano. Considerata via via montagna sacra alla luna, rifugio naturale o luogo per sacrifici, la pietra è rimasta isolata, ma la reputazione magico-misterica che l'ha accompagnata per secoli non è svanita, si è solo confusa, lasciando che alla spiritualità si sostituisse la lugubre fama di luogo romito, frequentato da chi intende porre termine alla propria esistenza sulla terra. Ma di tutto questo, a vent'anni, non mi curavo.